Fra gli effetti del decreto alluvione emanato il primo giugno scorso dal governo Meloni, c'è quello della sospensione di molti tributi e pagamenti per i comuni inseriti nell'elenco di stato d'emergenza per i danneggiamenti subiti dalla scorsa ondata di maltempo. Sono sette i comuni inseriti nel decreto per quello che riguarda la provincia di Pesaro-Urbino, vale a dire Pesaro, Fano, Urbino, Gabiccemare, Monte Grimano Terme, Monte Labate e Sasso Corvara Auditore. Per i residenti in questi comuni è stata prevista la sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari in scadenza nel periodo 1 maggio 31 agosto 2023. Rientra pieno in questo discorso l'Atari, ovvero il Tributo Comunale su Rifiuti, di stringente attualità visto che la settimana corrente era stata individuata come la settimana del pagamento della prima di quattro rate o in alternativa del pagamento in un'unica soluzione. Una data che per quel che riguarda Pesaro era fissata al 16 giugno. Con il decreto in vigore la data di pagamento invece ora procrastinabile fino al 20 novembre 2023 per agevolare i territori che hanno subito danneggiamenti. Data ultima in cui i versamenti sospesi potranno essere effettuati senza applicazione di sanzioni e interessi in un'unica soluzione. Data limite del 20 novembre che vale per l'Atari, vale per i versamenti IMU ma anche per contributi previdenziali e assistenziali, premi assicurativi obbligatori, cartelle esattoriali e ritenute alla fonte degli addizionali comunali e regionali IRPEF da parte dei sostituti d'imposta.